Ebbene, potrei leggervi questo pezzo così, Stranger Things Trend, è arrivata l'estate, periodo per me sempre malinconico, come se poi tutta la mia vita non lo fosse stato, ma non lo fu, infatti io sono un romantico. Ora, questo pezzo vi citerò anche Mamma ho perso l'aereo, non c'era Gio Pesci, Mamma ho perso l'aereo, ma chi lo doppiò? Gio Pesci, Saverio Moriones, qua è stato caldo con il tuo marron, Saverio Moriones, 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 invece io voglio recitarvi questo pezzo come Gio Pesci di quei bravi ragazzi, doppiato dal grandissimo Maglio De Angelis. Ok, ho visto per ora soltanto l'episodio 1, mi riferisco a Stranger Things 3, signore, 3, da me opportunamente recensito, ma lasciato con l'amare in bocca, comunque si risolve questo problema, basta aprire The Line's Hall, lì nel cassonette, c'è una bella bottiglia di amare averno, il gusto pieno della vita, insomma, l'uomo si è soffritto di amarezza, fatevi una bevuta, è così, quel senso si, quel senso di studiato, si, calcolatissima, si, ma c'è altre si purissime, quasi quasi, forse più che la Mara Verna, e tutti questi alcolici che poi fanno venire il volto al stomaco, si, fanno venire la cirrosa epatica, si, 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 e se poi non si è più empatico, si, si, ecco, però io rimango sempre simpatico, vero? Ecco, purissime, bevete semplicemente un po' d'acqua effervescente o naturale, come l'acqua levissima, purissima, lievissima, levissima, e a proposito dell'acqua, c'è il film, con Stranger Things, scusate, non mi è andato a Hawkins, non c'è il film, la forma dell'acqua di Shape of Water, con Sally Hawkins, dopo, no, adesso ve la racconto subito, partiamo subito così, eh, proprio sciogliamoci subito, ecco, la prima volta che fece l'amore, ecco, devo dire che la mia donna non è che fosse proprio Naomi Campbell, diciamo, no, o Charlize Theron, non era brutto come Sally Hawkins, però non era neanche, diciamo, il top, ecco, non era una top model, insomma, non era una grande top, ecco, il fatto sta che lei, io mi spogliai, in questo mio scritto, in questo mio pezzo, ecco, Mostri della Laguna, ma, secondo voi, perché si chiama Mostri della Laguna? Eh, perché la donna, che è Sally Hawkins, che fa una vita proprio da immaginata, da frustrata, da Mariangelo Fantozzi, ecco, uno si spoglia, vede qualcosa di mostruoso, e allaga tutto, tant'è che ancora prima di farti un pompo, aveva chiamato quella, non della pompa funo, perché gli idraulici, quelli che riparano tutto il pompo, basta, andiamo avanti, quella alchimia è rimaniscente della nostra indole nostalgica da figli di una generazione senza tempo, collocata nella temporalità, appunto, di una demora evanescente, fluttuando in una sorta di interzone neuronale ed emozionale non ben definibile, dal pastor di Cronenberg, di Burrox, comunque, con le donne viene bene col burro, eh, se non l'ho captato, introiettato, sentito stavolta romanticamente battere nella mia mano. Ora i bambini dei Hawkins, sono cresciuti, insomma, qui crescono le Hawkins, eh, o perlomeno sono in piena facettina, da ragazzi riquetti, già colmi, nel loro animo in via di grown up, eppure ancora non corrotte della società adulta, di quelle pulsante inquietante, inquietante, esistenziale incognita, fremente per godere la vita pienamente, appunto, ci rifacciamo la Mara Verne, gusto pieno della vita. Tant'è che i fratelli Duffer sembrano sempre più seguire una linea narrativa ispirata alla stagione della vita, non quella di Frank Battiatti, dal libro di Herman S, sono dei sit-arts, e qui sono anche un po' abbattandone. Ragazzi, semmo uomini, semmo scemi, che stanno seminando per il futuro avvenire. Seminando, quando si dice, sono, questi sono film seminali, seminali, ecco, per il futuro avvenire, che hanno superato la fase puberale, stanno iniziando a battebaccare con i loro conflitti emotivi psicologici tipici della loro età, certo. Sono dei ragazzi in erbe, a proposito di erbe, ecco, sono dei libri, di fetti adolescenziali, che dopo la pubescenza si barcamano nella bella e meglio per sbarcare il lunare, barcamano nella sbarcare, osservando i pleni luni, intanto passa l'aereo, quale barca, io non sto al mare, qua passano gli aerei, mi trovo nell'estremo periferito a Bologna. Osservando i pleni luni, per ululare con qualche ragazza, temidamente nudo, per mangiarsi dai genitori, cercando la propria strada. Tanto è che il giovane Steve si è fatto assumere con un improbabile gelataio, o panninare, lavoro da Mcdonald, questo qui. No, vabbè, forse perché nutre intimamente i sogni di comprarsi una Toyota Hybrid. Di me mi ricordo che appena partì la mia adolescenza, mi mette mai in denire del taxi driver. Si, denire, mia amica, quella appunto di quei bravi ragazzi, dottore scatenato, di casa no, eh, se la mia vita sta tutta casa, si. Denire che ora pubblicizzo la chianera, se di nome faccio Stefano, l'attore Joe Kierre, interpreta Stranger Things a parte di Steve Arenton. Quando la prima stagione uscì nel 2016, pensai che Joe fosse più vecchio di me, non Joe Pesce che sono io. Solo ieri, andando a controllare su MTB, ho scoperto che sono più vecchi in confronto a Joe di 13 anni. In confronto a Pesce, insomma, sono più giovane, a meno questo. Cazzo, a 13 anni ero già un sexy beast, come Bill Hargrove, Dacre, Dacre Montgomery, con una generale differenza rispetto a Bill Dacre. Lui è un burino che ascolta il Metallo Pesante, invece a 13 anni ero già l'ingarnazione di Montgomery Clift, e non ascoltava musica, essendo un batterista afono e pur rumoroso, appunto facevo il casino della Madonna, delle mie apatie, delle mie aphasie, delle mie ipocondrie. Ho anche scritto in libro La palla di ipocondria della luna, cercate e comprate soprattutto. Comunque che ha qui a Bologna, in questo giorno, fa un caldo mercadiale, se gli uomini e le donne hanno molto caldo, anche in inverno, comunque quando dopo settemane lavorative durissime, no, sbagliate, ho sbagliato il recitale, signor Matti scusse, allora faccio questo pezzo. Se gli uomini e le donne hanno molto caldo, anche in inverno comunque, quando dopo settemane lavorative durissime, sabato sera danno vita a tutti i loro ardori castigati nel giorno feriale, se danno, diciamo, ferite prima del giorno festivo. A me urlava, no, questi ragazzi non li ha, vai, vai, va, va, va. E Cliff, da un confuso con Eastwood Clint, eh, il Cliff, da un confuso con Eastwood Clint, ecco, Clint a 89 primavera, portata da Dio. Sta girando un nuovo film, Montgomery, invece, attore morto troppo presto, specializzato in ruoli malangonici, ha girato anche il film gli spostati, insomma è falotico. A 13 anni era indubbiamente molto piacente, tutto il che era buono, cioè le insegnanti borghese più maledettamente frustrate ma milfa, altolocate, un buon cervello tocca e forse dal marito non tanto più toccato, ma facevano l'occhiolino. Poi facevano cadere apposta la matita della cattedra, perché narsi lasciano andare a vedere qualcosa come quella cosa misteriosa, dice quella cosa rosa, non sono caccazzaloni, signore, di Sharon Stone in Basic Insta. Più volte chiesi loro parimenti a Bill se volevano prendere lezioni orale di tutte le lingue del mondo, essendo già un precoce, precoce, precotto, più che altro, Polo Glott, amante di Babel, e con un indole, come dice mio amico Robert De Niro in Gepfeer, io parlo tutte le lingue di Babel, e con un indole da Lupe Zecchiela. In vere porcellini erano gli altri, io conoscevo l'arcaico, pure l'arabo, c'è un mio compagno ex comunitario di Bango, e un portore cansi, uno della classe a canto, fratello appunto, benicidetto di Escubar, futuro capo push del quartiere ex comunitario della Basso Bologna. Non sono razzista, ne ho della società multiettrica, ho solo una forte etica, e chi spacce non è a mio avviso un uomo degno di notte. Non so perché, comunque, la mia insegnante, la cara buona, quando interrogava questo portore cani, lui le rispondeva alla buona e gli aveva tante notte. Forse di notte, lui le dava una dose d'eroina per non farsi bocciare, e lei, dopo aver trascorso la mattina a parlare dell'eroe dei due mondi, ovvero il Garibald, Giuseppe, faceva la Garibaldina appunto, sniffando, quando si dice ecco fa un po' la posta del settantottino, sessantottino, forse il 69 fa la Garibaldina, scusi. Il giorno dopo insegnava a noi studenti della rivoluzione francese. Legalité, liberté, fraternité, esse, esse, se questo portore cani non era molto dotato mentalmente parlando, dall'altro punto di vista doveva essere un premio Nobel come Hermanesse, come no. Il registro di Escobar della pellicola con Benici, ci fa il cognome di Stefano, Andrea di Stefano, io di nome faccio Stefano. Il massimo del vizio che mi concede è una cioccolata calda della Escobar. Si, ho commesso molti errori nella mia vita, ma non sono un criminale da strapazzo come Woody Allen. Criminale non lo sono proprio, forse a causa, anzi è stato contrario, a causa di troppo bullismo, ho perso la testa, dopo essere stato strapazzato, in pazia spaccai tutto, soprattutto il mio cervello. Fui sedato, troppo calmato e acquietato. La libida andò a puttana, senza figurato, venne sfigurata e non solo il cervello fu compresso, anche qualcos'altro. Insomma, fu incompreso e compromisse il mio futuro, comprimendo quel che non compresso. Capisci? Comprendete? Ecco. Vari psichiatri cercano di capire come avessi fatto a perdere la testa a mo', a mo', a mo'. The World Buyers della stagione 2, ma anche della stagione 1, perché non lo vediamo, ma sta lì, insomma. Oltre ad aver perso la testa l'hanno proprio perso. Fui fermato per via delle mie scandescenze rifrenabili, quasi dai ben freni, perfino da un poliziotto giunto a casa mia per placarmi. Un tipo con una faccia da schizofreni come David Harbour. E poi, in verità, l'adolescente era amato da ogni winona rai del quartiere, il Johnny Depp della situation. Ecco. Più che altro la situation comica. Comica? No. La situation comoda. Era un uomo tragicomico. Mi chiuso sempre in casa. Anche le mie possibili amanti, comunque non è che uscissero molto, anche se facevano entrare tutti dentro di loro. Le uniche volte che uscivano per appartarsi, soprattutto per arraparsi, ecco, nei parcheggi con i loro veri amanti, non lo sapevano neppure i loro genitori. Figurassi che cazzo ne potessi sapere io? Si furono succhiati dal nightmare, come il Johnny Depp, mentre dall'enne profondo della notte le mie coetane praticavano succhiate. Il massimo vizio che mi concedete a tardi ore era un succhino da frutta. Tornando invece a Stephen King, i suoi migliori libri sono quelli della Stranger Things, Stand By Me, vedo cuore in Atlanta di Joyland. Dove ero rimasto? Scusate. Joyland. Di me non è stato capito molto. D'altronde frequentavo solo dei ragazzini che giocavano col Joypad. Nemmeno da me stesso. Pensate che un disco che io mi odio tutt'ora dà tempo immemorabile. Interferenza, interferenza dal Signore del Male. Andiamo avanti. Ok. Per lui, torniamo a questo che mi odia. sono sia Macaulay Culkin, 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 da mamma perso l'air che il vecchio visto da Macaulay nel suddetto film, come un mostro. Lui lo vede come un mostro. Ha paura proprio di questo uomo. Se per questo il mio hater sono il pagliaccio di Brennerweiss. Ma di me se solo che il sole in questi giorni sta battendo troppo forte. Va detto. nonostante tutto sono sempre numero uno, Signore. Che ci vuole fare? Chi nasce genio non può morire deficiente come quell'altro, eh. Che è combinato veramente un casino. 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 Quell'altro è stato proprio il mio Joe Pesce. Vabbè. Nonostante tutto sono sempre numero uno. Secondo me comunque la canzone dell'estate sarà questa dell'Imagine Dragons. Immagine Dragons. Immagine Dragons. Immagine Dragons. Scusate. I ragazzi di Stranger Things non giocano a Dungeons & Dragons. Immagine Dragons. Io comunque non sono tipo da Elise né da Sally Hawkins. Elise deve essere una frustrata di essere. Comunque adesso assieme agli Immagine Dragons ha cantato questa canzone che è veramente molto bella, eh. È veramente molto bella. Si chiama Burst. Uccelle. E ho detto tutto. Uhuhuhuhuhu.